Roberto Benigni sfodere il leone alla carriera appena ricevuto al Festival del Cinema di Venezia, più pante, energico, visibilmente emozionato, nonché reduce dalla dichiarazione di eterno amore, nuovamente resa alla compagna e musa Nicoletta Braschi. È il momento clou della prima serata di una Kermes che, la sua settantottesima volta, sogna di rinverdire i fasti ammaccati dall'anno di Covid e dall'ampia fetta di cinema che la pandemia ha tagliato, frenato, rimandato o dirottato sulle piattaforme. Grazie a Giorgia Carena, fotografa e corrispondente di Rete 55 della settimana del Lido, abbiamo già sbirciato l'arrivo sul red carpet del regista spagnolo Pedro Almodovar e dell'affascinante Penelope Cruz, tra i protagonisti assoluti dell'apertura di ieri. Questa sera, invece, spazio all'arte australiana. La regista Jane Campion, autrice, tra l'altro, dell'indimenticabile lezioni di piano, presenta The Power of the Dog, ambientato negli anni 20, interpretato da Kirsten Dunst, attrice divenuta famosa da bambina e già protagonista di numerose pellicole di successo.